Ha lasciato il reparto per detenuti dell'ospedale di Pescara per il carcere di San Donato. Davide Troilo, 32 anni, ascensorista pescarese, accusato di omicidio volontario per aver ammazzato a coltellate venerdì scorso l'ex fidanzata Jennifer Sterlecchini, 26 anni, anch'ella di Pescara, neolaureata in lingua all'adannunzio. Delitto avvenuto al culmine di una lite. Il trasferimento del giovane è stato portato a termine nel pomeriggio di oggi, dopo l'interrogatorio di garanzia di questa mattina ha durato circa un'ora, che si è svolto proprio all'ultimo piano del nosocomio adriatico. Il ragazzo, assistito dall'avvocato Davide Antonioli, è stato interrogato dal GIP del Tribunale di Pescara Antonella Di Carlo, alla presenza del sostituto procuratore titolare dell'indagine, Silvia Santoro, che sempre in ospedale, venerdì sera, aveva raccolto la prima deposizione di Troilo. Il giovane ha raccontato al magistrato la sua verità, la colluttazione sfociata in tragedia e il coltello da cucina diventato arma. Jennifer era tornata nella villetta a due piani di via Acquatorbi da quartiere Fontanelle per chiudere la relazione sentimentale rotta, ha riferito un'amica, per volontà della ragazza che diceva di essere stanca della gelosia di lui che la pedinava. Jennifer si era fatta accompagnare dalla madre e da un'amica, che però sono rimaste fuori dall'appartamento mentre all'interno si consumava l'omicidio e sono state richiamate solo dalle urla di aiuto della ragazza, troppo tardi però per intervenire. Troilo a caldo avrebbe confessato che l'ex fidanzata l'avrebbe spinto e lui avrebbe risposto, poiché Jennifer si sarebbe colpita alla gola con un coltello e che lui l'avrebbe imitata, infine che i due si sarebbero colpiti a vicenda finendo sul pavimento dell'ingresso in un lago di sangue. Fatale per la ragazza sarebbe stato proprio il fendente alla gola, anche se nella ricognizione cadaverica del medico legale sarebbe emersa una frattura alla mandibola che porterebbe gli inquirenti a pensare ad un'altra versione dei fatti. La ricostruzione di Troilo infatti non convince procura e carabinieri, i militari perciò si preparano a tornare sulla scena del crimine assieme agli esperti del RIS. Il PM Santoro intanto ha secretato il fascicolo con segna del silenzio anche prima e dopo l'interrogatorio di questa mattina, condito da attimi di nervosismo, mentre con ogni probabilità domani l'anatomo patologo Ilvo Polidoro eseguirà l'autopsia sul corpo della vittima da cui forse emergeranno con certezza elementi utili alle indagini. Intanto il fratello di Davide Troilo, Michael, ha scritto una lettera alla famiglia di Jennifer chiedendo scuse e dicendo di vergognarsi per il male fatto da Davide.